La parola per un breve ricordo ad Andrea Bartali che riporta qui le parole di suo padre. Salve a tutti, sono molto emozionato perché mi sembra di aver fatto un salto indietro di oltre mezzo secolo quando tutte queste persone venivano a applaudire mio padre nelle riunioni in pista. Ed era così, era così emozionante, così toccante, così vivo. E mio padre, un uomo che ha avuto una vita intensa, talmente intensa, che anch'io faccio fatica a ricordarmi tutte le cose che ha fatto. Per cui io ho diviso la sua vita in quattro periodi. Prima della guerra, durante la guerra, il dopo guerra, fino al 2 gennaio del 60 quando morì il suo amico, ma c'era il morivale Fausto Coppi e gli ultimi 40 anni quando il 5 maggio del 2000, allo scoccare delle due in punto, nel suo letto di casa scomparve fra le mie braccia. Un uomo che ha fatto più di 700.000 km in bicicletta. E fra questi 700.000 km ci sono anche quelli fatti durante la guerra per portare aiuto, diciamo così, a quelli che avevano più bisogno. Come? Quando dopo l'8 di settembre ci fu l'armistizio, praticamente le leggi razziali furono anche in Italia applicate severamente. In Italia c'erano qualcosa come 15.000 circa rifugiati politici e religiosi ebrei nelle chiese, presso gli amici, eccetera. Il cardinale Viglia di Allacosta, il cardinale di Firenze, pensò bene di mettere in salvo queste persone, perché sennò sarebbero state facili e preda, diciamo così, dell'esercito nazista. Come? Cosa fece? Cosa isleò? Pensò di farli imbarcare a Genova. Per cui occorreva tutta una serie di clandestinità, di opere di clandestinità, per cercare di mettere in salvo queste persone. Il progetto era quello di portare documenti da Firenze fino a Lucca, alla Certosa di Lucca, a Farneta, dove lì i certosini avrebbero provveduto insieme a Giorgio Nissim, che era un ebreo ma che riusciva bene a muoversi, portare i documenti falsi, da lì poi portarli a Genova e Genova a farli imbarcare. Papà doveva fare praticamente la staffetta, il postino. Il cardinale Lì a Allacosta lo chiamò chiedendo lì se voleva andare in clandestinità. E mio padre si offrì ben volentieri di andare in clandestinità. E la rete clandestina era la Delacem, dove operavano diverse persone. Papà doveva prendere i documenti qui a Firenze, portarli a Farneta. A Farneta ne prendeva degli altri e andava alla Diocesi di Genova. Alla Diocesi di Genova, io ho saputo poco tempo fa, lui poi prendeva dei soldi che riportava a Firenze. Erano soldi che gli ebrei americani mandavano su un conto a Ginevra. A Ginevra andava un avvocato, ogni tanto le prendeva, le portavano a Diocesi, e le Diocesi le dava in parte a mio padre, per alimentare questa Delacem. Fece tantissimi viaggi, soltanto che poi ci furono i momenti un pochettino tragici, perché i tedeschi vennero a sapere che Farneta praticamente nascondeva degli ebrei, e torturarono questi certosini. Ci sono alcune fotografie in cui questi certosini sono senza barba, perché i tedeschi, per torturarli, gli incendiavano loro la barba. Non solo, ma poi, quando, ve la faccio corta, quando le cose cominciarono un pochettino a peggiorare, ci furono dei rastrellamenti, eccetera, ci fu proprio l'eccidio di Farneta, nel senso che vennero trucidati questi certosini, e credo che ancora sia sospeso al Tribunale della Spezia appunto il processo per questo eccidio di Farneta. Una volta praticamente chiusta Genova, perché Genova è facilmente controllabile, eccetera, molti pensero alla strada della Svizzera, alcuni ce la fecero, però, insomma, fu abbastanza un buon successo. Non poteva però continuare a fare questa, farsi trovare questa forma di salvezza. Allora, il Cardinale Elia della Costa pensò bene di trovarne un'altra. Siccome le truppe alleate stavano avanzando, ed erano ferme sulla linea Gustav, cioè quella che andava da Anzio fino a Ortona, e attraversava l'Abruzzo, allora loro pensavano di fare attraversare questa linea a questi perseguitati religiosi. Mettendosi d'accordo con i francescani di Assisi. Allora mio padre partiva da Firenze con documenti falsi, andava ad Assisi, pigliava altri documenti, e ritornava indietro. Tutto nella stessa giornata. Sono 180 km da andare e 180 km da tornare. Questo per non dare nell'occhio, per non stare fuori la notte, per non far sapere alla gente che lui la notte non era a casa. Dopodiché, lui addirittura portava i documenti, sembra una favola, presso il monastero delle clariste di clausura di San Quirico, le quali suore, nei loro giardini, hanno praticamente una specie di cantina, eccetera, e lì nascondevano molte persone. C'è addirittura ancora una surina che vive, che si chiama Suore L'Onore, cioè ha 96 anni, che si ricorda ancora di mio padre. Quindi era tutto un andare e tornare tra Francescani, Assisi e Firenze. Io credo che dopo abbia fatto circa 43-44 viaggi. Non solo, ma una volta arrivati ad Assisi, i Francescani spesso gli chiedevano di andare a vedere se c'erano dei posti di blocco per andare in Abruzzo. Lui doveva prendere contatti con Rivisondoli, con un franciscano che era soprannominato il confessore dei contrabandieri. Lui conosceva tutti i contrabandieri, che non erano contrabandieri, erano borsari neri che conoscevano praticamente tutti gli alvie che potevano superare questa linea Gustav. E mio padre andava lì, parlava con questo sacerdote, andava a prendere contatto con i contrabandieri, non solo, ma anche si metteva d'accordo purtroppo sul prezzo che volevano far passare queste persone la linea Gustav. Poi faceva un lungo rientro per l'Alto Maceratese, insomma, era un impegno abbastanza robusto. Poi c'era anche un'altra considerazione da fare. Terontola era, ed è anche oggi, uno snodo ferroviario molto importante perché unisce Nord al Sud e i due mari. E lì cercavano anche lì di mettere sui treni delle persone, però questi treni erano molto controllati. Allora c'erano i partigiani e alcuni abitanti del posto che si mettevano d'accordo con mio padre. Che cosa faceva mio padre? Mio padre faceva il Gino Bartali. Era un uomo molto conosciuto, era un campione. Arrivava lì a Torontola. Le persone li facevano intorno. Caro Gino, raccontaci il giro di Francia, il giro d'Italia, il giro di Italia. Quindi un sacco di persone che si radunavano intorno a lui. Siccome questi capannelli dovevano essere sciolti, ecco che le sentinelle, sia italiane che tedesche, si allontanavano dai treni e andavano a sciogliere questo capanello di persone. In quel frangente si facevano salire le persone che dovevano prendere il treno. A Torontola oggi c'è ancora una lapide che ricorda praticamente l'impresa di mio padre. Non solo mi fare faceva quella. Quindi dicendo quante persone si fanno dove si fanno la città, non è più te. Ecco, questo è in linea di massima quello che faceva mio padre. Poi ci sono tante altre situazioni, ma ora si fa troppo lungo. Però io, papà, ha salvato direttamente e indirettamente molte persone. Direttamente qui a Firenze c'è Villa Selva che nel raccordo che unisce l'autostrada Firenze Sud a Firenze c'è una villa con dei merli sulla destra. Ecco, lì erano, quando c'era stata la ritirata tedesca, c'erano 49 inglesi che non riuscivano a essere liberati dai partigiani che erano dall'altra parte di San Marcellino. Andarono a chiamare mio padre e gli dissero Gino cosa si può fare per liberare questi tedeschi. Mio padre per la prima volta in Pisa Sua si vestì da fascista con la bicicletta, il moschetto scarico, perché lui non sparava, andò lì e uno a uno li fece prigionieri, tanti lenzuoli bianchi, mani alzate, li fece passare per i viottoli e li consegnò tutti e 49 ai partigiani. Quando il generale Alexander entrò a Firenze, la prima persona che voleva conoscere, pur mio padre, cioè quel campione eroe che ha salvato 49 mila persone. Ora adesso un applauso... Aspetta, prego. Ci sono due documenti che vorrei far reggere a Ugo. Uno è una lettera che parla di Dachau e poi questa è la lettera a Gino Bartali firmato da Vitti Agostino nella quale dice sono il figlio di un ex prigioniero del campo di concentramento di Dachau in Germania dopo tanti anni vengo a fargli sapere una cosa che il mio defunto padre non gli aveva mai detto anche se tante volte lo voleva fare. La storia è questa. Nel campo di concentramento di Dachau c'erano tanti reportati di tutte le nazioni ma capivano soltanto quando si diceva Bartali oppure conosci Bartali. Un giorno mio padre gli si presenta una persona che gli disse di essere italo-francese che gli chiese se conosceva Bartali. Mio padre gli disse che era di Firenze come lui. Aveva una foto di Bartali assieme a quella della famiglia. Questa persona gli disse se mi dai codesta foto io ti porto a lavorare in una fattoria. Questo italo-francese era una della commissione internazionale per lo smistamento dei prigionieri. Mio padre accettò la proposta di quest'uomo. Disse di preparare una lista di 15 persone che poi sarebbe tornato dopo qualche giorno. Tornò, prese la lista e gli dede che gli dede mio padre e fece la durata. Mio babbo era uno che cantava di poesia. Caro Bartali ne mando con tutto il cuore la registrazione di quando mio padre raccontava quei tempi. È un racconto in rima poetica come facevano i vecchi contadini toscani. Grazie a Bartali. Mio padre non voleva riconoscimenti perché lui diceva che il bene si fa ma non si dice. Perché la più grande vigliaccheria che lui credeva a questo mondo è di speculare sulle disgrazie degli altri. Quindi non ha mai raccontato niente a nessuno. Soltanto ultimamente me l'ha raccontata a me con sotto giuramento di non parlarne fino al momento che non mi si era accorto. Però anche l'Italia si è accorta praticamente di questo suo impegno durante la guerra ed ecco qua. Il ministero dell'interno veduto eccetera fu conferita la memoria del signor Gino Martali la medaglia d'oro al merito civile con la seguente motivazione. Nel corso dell'ultimo conflitto mondiale con encomiabile spirito cristiano e precara virtù civica collaborò con la struttura clandestina che diede ospitalità e assistenza ai soldati politici a quante sfuggirono ai riastrellamenti nazifascisti dell'Alta Toscana riuscendo a salvare circa ottocento cittadini ebrei mirabile esempio di grande spirito di sacrificio e di umana solidarietà il ministro Pisano grazie ad Andrea Bartali ma grazie soprattutto a Gino Bartali ho l'onore di consegnare il Pegaso d'oro della regione toscana alla memoria di Gino Bartali grazie adesso